e mo qua metto lo schifo e vedi cosa succede se qua metto questo lo lascio qua poi i deliceti resta l'importante se lo faccio una cosa il design è il gas del vino e il 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 vino e poi con i giardini e noi siamo li segnettini Ma come è bella, poveri dirigenti, li faranno male. Ma dicono, ma questo è hamburger? Ah, non ce ne andiamo via. Ma le butto via questi ganni. Allora, devo ragionare un po'. Perché io, i telefoni, faccio un intervento di un po' del genere. Quindi, io mi faccio un intervento di un po' del genere. E quindi, normalmente, metto un intervento di un po' del genere. E quindi, non c'è un'intervento di un po' del genere. E questi vestiti qua. Ma devo fare il conto. Allora, questo se ne va via. Questo va via. Questo va via. Questo va via. Questo va via. Allora, noi dobbiamo fare car... Carmi. Ok, il coniglietto soffre là. Bene. Il cappellino va via. La fascia va via. E questo va via. E questo. E questo. E questo. Poi, di vestiti. Devo vedere un po' di cose. Il vestito, però, me lo prendo perché non è... No, non lo prendo. Questo va via. Questo. Questo non lo voglio. Questo non lo voglio. Questo non lo voglio. Questo va via ce l'ho. Quindi, addio! questo glielo do anzi no questo me lo prendo anzi no mi prendo questi qua li lascio a loro io mi prendo lo skate lo porto la casa dei cramp è questa con il dimettro il cramp è che io mi lascio se no lo zlemm lo metto e qui mettiamo la casa dei cramp la casa dei crampi 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 viene una nemica e viene a dormire e le persone di loro il crampo viene a dormire e che si sta a navigare e che si sta a navigare comunque continuiamo la casa dei crampi e questo va bene così ok, state finita adesso vengono a me tac, e tac che si utilizza il nostro amore benissimo ragazzi, ci vediamo faccio la seconda parte, ciao